Ma avete sentito la televisione? E non l'hanno mica ancora preso, no? Ma chi? Ma come chi? Il dottor Bonetti? Il serial killer? Oh, sì, 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 quello che va in giro a ammassare i vecchietti? Eh, proprio lui! È già un po' di mesi che è scappato e ancora va allo libero in giro! Oh, che vergogna! Che paese, che paese! Che paese! E pensare che la pina, lei, ce l'aveva persino nel condominio! Ma, beretti, ma guarda che roba, signor! E io lo vedevo sempre andare a messa la domenica, la domenica! Eh, ma una così, guarda, una così brava persona, educato, salutava sempre! Sì, 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 ma figè non si può proprio fidarsi più di nessuno, eh? No, 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 no! Ma ai nostri tempi certe cose non succedevano però, eh? No, 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 no! Che poi? Non siamo mica vecchi? No, ma cosa ti dici? Ma stai scherzando? Vecchiamo, 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 comunque io non capisco, ragazze, come non fanno a prendere uno vestito da medico che va in giro con un coltello da caccia, su, ragazze! Eh, ma che periodo maledetto! Prima, mimo, buonanima, destino! Ce ne fossero dei galantuomini come lui, un marito esemplare! E che lavoratore! Un esempio per tutta la comunità! Sì, 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 da ragione! Sapessi, sapessi! Franca, come mi hai dispiaciuto! Grazie, grazie, Pina, grazie! Ah, 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 aspetta, aspetta! Mi suona il cellulare! No, brava, brava! Rispondi, brava! Vai, vai pure, Franca, vai, vai! Di, reginetta, dimmi! Ma lo sapevi che mimo, buonanima, se la intendeva con la pasticcera? Hai voglia se lo sapevo! Ma aspetta un po'? Eh! Ma non se la intendeva con la parrucchiera? Oh, mammi! Ma che peccione, però! Ma cosa stai dicendo, Pina? Mi sa, sai, lo dice sempre anche mio figlio! Ah, va bene, se lo dice tuo figlio, allora! E comunque, e comunque, a sua moglie diceva che andava a fare gli straordinari, sai? e invece non si presentava neanche al lavoro ma se mio marito Gino mi dovesse fare una parte del genere a casa lo aspetta il mattarello brava 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 oh prego bravo vieni mi chiamano ancora per farmi le condorialze e che a certe volte è anche un po' strano devo dire e l'altro giorno ad esempio mi ha telefonato la pasticcera io non la facevo così gentile e come fattiva la schienetta io credo bene scusa volevo dire ma perché è strano e perché noi altri i dolci non accattavamo mica c'aveva il diabete quello buonanimo del mio Mimmo ma Mimmo cosa vuol dire quello che intendeva dire te schienetta è che Mimmo era molto amato come era amato lui non era amato nessuno era amato dalla mattina alla sera dalla sera alla mattina grazie grazie prego oh Pina mi raccomando eh con questa brutta storia del dottor Bonetti se c'hai di bisogno chiama per qualsiasi cosa che se non ci diamo un po' una mano tra noi altre in queste situazioni così brutte c'hai ragione sai c'hai ragione certo che dopo tanti anni scoprire di aver vissuto di rimpetta un assassino via ma da veia ma come cosa c'è fai con quell'affare lì non si sa mai non si sa mai scusate oh scusate Marina cosa che ha l'affare Marina prego prego vai vai si vai ma ora dico Franca ma ti sembra possibile cosa non che quella lì vive di fianco a Jack lo squarciagole e non si accorge di niente eh c'hai ragione io non mi sono mai fidata brava 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 non me la contava mica giusta con quella faccia bastava guardarlo si intanto cosa vuoi che guardi quella lì cosa vuoi che si intenda ma dai su non ti vedi come le rimbambia che poverina forza ma forza di comandare suo marito Gino l'ha fatto rincintrullire ma su ma ti sembra scusate la marina vieni ma ci mancherebbe eh Ginetta dimmi un po' una cosa e tuo marito Beppe come sta? eh insomma abbastanza ragazzi oh oh scusate eh scusate mi suona il cellulare scusate eh ah ah uscici o li metti giù metti giù pronto? pronto? si eh ci ho hai mangiato? eh ecco ehm si ma hai mangiato abbastanza? ehm eh ma ce n'hai da mangiare per stasera? eh e come? e sono le due? eh eh e allora dimmi un po' ma volevi dirmi qualche cosa? ecco non ti sento pronto? pronto? pronto! ehm Pina ehm a proposito del Beppe ehm ma lo sai che non è manco venuto al funerale del Mimmo? ma davvero? ma davvero? ma davvero? ma che male di cosa? guarda guarda me l'ha detto e confermato quello delle bombe funerive che lo conosco anche bene ehm 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 anzi anzi l'altro giorno mi ha dato dei biglietti da vita e mi ha detto se li vuoi dare a qualche tuo no 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 per carità che ne ho la casa piena di quella roba lì sì perché mio marito fa la collezione come gli album delle figurine comunque secondo me sai perché Beppe non è venuto al funerale? perché sarà andato da qualche parte a mangiare ma non ti ho vedi che passa qui là ho pa' un trichecco che ha vengolato una bella fatica bella entrega scusate tanto ragazzi abbiate pazienza dicevo di mio marito è schifo un uomo sta facendo la dieta si mangia quei gemmi egemonizzati quelli piccini egemonizzati ma di fatti te lo volevo dire mi sembrava tanto battito ancora un pitinin e poi basta non è che in te ci mancherebbe va bene dici di mangiare tanta frutta senza i quivi dei quivi perché i quivi fanno bellissimo i quivi i quivi i quivi i quivi i quivi pagò dico senza altro ragazzi ci mancherebbe adesso abbiate pazienza ma io devo andare a fare de mangiare eh sì e quindi vi saluto devo andare a comprare le ardiciole brava brava aspetta che andiamo eh sì franca vi pazienza ecco franca a proposito mi raccomando se per caso chiamasse ti chiamasse a te la parrucchiera esci dici che giovedì non ci posso mica proprio andare perché dovrebbe chiamarmi la parrucchiera stani tranquilla vedrai che ti chiama te lo dico io a nemmi dai dai mi vado del chiamato ciao 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 ciao